Sabato 21 maggio alle 16 presso la piazza Unità Italiana di Terra Nuova Bracciolini i ricordi, i racconti degli anziani saranno letti e raccontati dalle persone del paese. Un progetto che ha visto protagoniste la libera Università di Anghiari e le principali RSA del Valdarno Aretino. Sono stati raccolti tutti i pensieri e i ricordi delle persone che saranno letti dall'associazione I Leggomanti. Un modo per ricordare pezzi di vita vissuta che si lega inevitabilmente alla vita del territorio. Ci sarà la restituzione pubblica delle storie di vita degli anziani che hanno deciso di partecipare a questo progetto e che tramite la libera Università di Anghiari e i loro operatori hanno raccolto i loro racconti di vita. Quindi ci saranno 5 racconti per ogni RSA e ci saranno letture delle storie a cura dei Leggomanti quindi verranno lette dai Leggomanti e ci saranno lì i protagonisti quindi l'invito è aperto a tutti, alle famiglie ma non solo, anche ai cittadini che sappiamo quanto è importante comunque che anche gli anziani riescano a raccontare e a riportare e a tenere viva la memoria su quello che è il loro passato su quello che è la loro vita e quindi credo che questo sia un progetto che abbia fatto del bene agli anziani stessi e qui nella locandina li vediamo nella foto di quelli che parteciperanno e quindi vi invito a partecipare e venire ad ascoltarli.